Siamo tutti uniti contro il malaffare e contro chi vuole far passare questa città come qualcosa di diverso rispetto a quello che è. È una città nostra di persone perbene e non deve essere assolutamente oscurata e macchiata da questi individui che invece vogliono tutto il male e nulla di bene. Ho convocato una conferenza dei capigruppo in forma urgente perché domani sicuramente si terrà un Consiglio Comunale monotematico sulla questione della sicurezza. Un Consiglio Comunale che mi auguro sarà l'insegna della coesione da parte di tutte le forze politiche di maggioranza e di minoranza perché domani dobbiamo dare un segnale forte e chiaro alla città che oggi vive un momento drammatico sotto il profilo economico e sociale e quindi dobbiamo far capire a tutti i cittadini foggiani che le istituzioni sono al loro fianco e lo saranno sempre.